Il deputato regionale accese Nicola D'Agostino traccia già un bilancio del carnevale, la via da seguire per potenziare la manifestazione. Da domani 1 marzo scatterà la differenziata da Cicatena, perplessità da parte del Movimento 5 Stelle che denuncia la totale mancanza di informazione agli utenti. Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione di TG Reporter, un telegiornale che sarà in buona parte dedicato al carnevale, parlando della giornata di oggi e di quella di ieri, puntando l'attenzione anche sui carri allegorici. Ma andiamo a questa mattina alle 10, infatti è iniziata la parata dei carri allegorici, ma c'è attesa anche per la premiazione di questa sera. Sentiamo allora come si svolgerà la giornata di oggi. Giornata conclusiva, quella del carnevale 10 reale edizione 2017. Anticipata questa mattina alle 10, l'uscita dei carri, che posizionati lungo il circuito del centro storico, hanno dato spettacolo con la consueta parata, che proseguirà fino alla premiazione serale. Ad accompagnare i carri nel corso della sfilata, sette maschere singole e due testoni dell'edizione 2017, ma anche gruppi mascherati e bande musicali e folcloristiche che animeranno il tutto. Dalle 21 in Piazza Duomo, divertimento e musica con l'esibizione dell'orchestra stile italiano, lasciando spazio infine alla premiazione dei diversi concorsi, dove sul palco saliranno i maestri artigiani che hanno lavorato alla realizzazione dei personaggi in cartapesta. Per il sindaco Roberto Barbagallo, questa edizione 2017 è stata eccezionale, puntando l'attenzione anche sui carri allegorici, dove elevata, ha commentato Barbagallo, è la qualità del lavoro. Sarà difficilissimo il compito della giuria. Delle vere e proprie opere d'arte di cartapesta da preservare, così il direttore artistico Giulio Vasta e Antonio Belcuore, presidente della Fondazione Carnevale a Cireale, commentano i carri allegorici. Una giornata, insomma, nel quale non mancheranno i visitatori provenienti da ogni dove per vedere la parata dei carri, confidando nel bel tempo. Ma il Carnevale 10 Reale vede anche delle iniziative collaterali che lo vanno ad arricchire. Si conclude oggi il ventunesimo concorso dei carri in miniatura presso l'IPAB Santo Noceto di Corso Umberto, curato dall'Associazione Culturale Gruppo Liberi Artisti. E ancora, fino ad oggi, è possibile visitare in Piazza Duomo la mostra dei bozzetti dei carri del Carnevale. La mostra maschere e mascherine, l'arte acitana, giunta alla ventesima edizione. Sempre in Piazza Duomo, il concorso di disegno su cartolina postale, il tutto a cura dell'Associazione Filatelica Numismatica Cese. Tanti i turisti che dal 10 febbraio hanno poi visitato la mostra dei carri in miniatura al Palazzo Corvaia di Taormina, che fino ad oggi è possibile visitarla. Infine, in edicola, si può acquistare la rivista satirico-umoristica a numero unico di Carnevale, a cura del circolo universitario. Nella giornata di ieri è stato rivissuto il tradizionale lunedì dei fiori, una sfilata di carrozze in costumi ottocenteschi seguita da macchine d'epoca infiorate. Il tutto ha ricordato la tradizionale cassariata, un'iniziativa, la primigenia del Carnevale dei Fiori. Sentiamo allora come si è svolta. Il Carnevale di Acireale ieri sera si è colorato di arte e cultura, riproponendo il tradizionale lunedì dei fiori. A partire dalle 17 hanno sfilato infatti, lungo il circuito del Carnevale, le carrozze dell'Ottocento, per ricordare l'elegante tradizione della cassariata, un momento in cui i nobili, con le loro landò addobbate in stile floreale, salutavano gli eccessi gettando fiori e confetti. Un momento, insomma, in cui i popoli e nobiltà si ritrovavano insieme in un momento felice. Questo elegante corteo è stato introdotto da un gruppo di sbandieratori, del rione Panzera di Motta Sant'Anastasia, che ha creato l'atmosfera ottocentesca. Un'iniziativa di cui ci parla il direttore artistico della Fondazione del Carnevale, Giulio Vasta. Parte dalla cassariata degli anni del 1800, per arrivare poi agli anni 70 con le macchine infiorate, ma di mezzo ci sono le auto di quell'epoca infiorate. Chiaramente non possiamo infiorare le auto d'epoca di quell'epoca che sono di grande valore, perché quelle rimaste degli anni 30 non possiamo... abbiamo fatto degli accordi precisi con i proprietari, perché mettere sopra le macchine le composizioni floreali potrebbe significare anche rovinarle. abbiamo dato dei segnali come erano preparate queste macchine d'epoca, di quell'epoca infiorate. Anche le auto dunque, e non solo le carrozze, hanno sfilato ieri sera, ricordando che dopo la sospensione nel periodo della Prima Guerra Mondiale, nel 1930 il Carnevale ad Ascireale ritorna con un tocco di gentilezza. Infatti per la prima volta vengono allestite delle autovetture ricoperte di fiori. Ma bisogna aspettare il periodo della ripresa economica del paese e il boom industriale degli anni 50 per avere la creazione del soggetto infiorato posto sulle autovetture del tempo. A Cireale ieri sera ha rivissuto proprio questa epoca, grazie alla scuderia Galatea Veteran Car che ha messo a disposizione otto auto d'epoca, ripercorrendo così la storia automobilistica dal 1930 al 1959. A parlarci della loro iniziativa sono stati i responsabili della scuderia Toti Cavallaro e Pino Micale. Oggi abbiamo qui presente la Ford A, la Sedan 3003 del 1930, una Fiat 508 Balilla 4 Macci del 1936, una Fiat 508 Nuova Balilla del 1938, una Singer Nine 1.6 Spade del 1939, una Fiat 500 Topolino del 1947 e un 1100 del 1951, una Formeo Giulietta Spin the Spider del primo tipo del 1956 e una Fiat 1.2 Spade. Sono macchine di grande qualità. Parliamo della Fiat 508 Balilla, è stata presentata per la prima volta dal senatore Giovanni Agnelli al duce Benito Mussolini nel 1932, il quale gli assegna il nome Balilla come auto del popolo. Proseguiamo a parlare del Carnevale in maniera particolare della giornata di oggi, la giornata conclusiva, in quanto per questa giornata sono state disposte anche delle aree di parcheggio e di assistenza. Per quanto riguarda le aree di parcheggio a pagamento, queste si trovano in via Galatea Cappuccini dove è possibile lasciare solo l'auto. Al piazzale Francesco Vecchio si può posteggiare l'auto, camper e moto. Per i bus invece sono state istituite aree di posteggio in via dello stadio, piazza Olimpia e largo Vito Finocchiaro. Per quanto riguarda invece i punti di assistenza, in piazza Duomo è stato situato il servizio medico, in piazza Cappuccini, Corso Savoia, angolo con via Paolo Vassa sono state posizionati mezzi di soccorso e infine altri punti di assistenza costituito da servizio medico e mezzo di soccorso si trovano in piazza Garibaldi e piazza Indirizzo. E alle ore 15 riproporremo la diretta di ieri dedicata alla giornata dei fiori, mentre a partire dalle 17 è possibile seguire la diretta dal Palazzo di Città per la parata finale. Il tutto lo potete anche seguire in streaming sulla nostra pagina Facebook Etna Espresso Channel trattino TG Reporter. E con la prima parte dedicata al Carnevale ci fermiamo, riprendiamo dopo la pausa con ancora il Carnevale. Carnevale di Acireale, tra il barocco, tra la gente, tra i coriandoli. Riscopri il piacere del sorriso con la satira dei grandi personaggi in cartapesta. Vi aspettiamo ad Acireale dal 18 al 28 febbraio con maschere, colori, luci, fiori, coriandoli, musica, sorrisi, divertimento assicurato. Per info carnevale di Acireale.it o 095 895 249. Quanta strada fanno i tuoi occhi nella vita di ogni giorno e nel mondo digitale per farti vivere bene questo viaggio. Zeiss ha creato delle lenti ad alta tecnologia adatte a ogni momento della tua giornata, anche quando usi dispositivi digitali. Lenti che non lasceranno che i tuoi occhi si stanchino di vedere, di viaggiare, di vivere. Chiedi al tuo ottico Lenti Zeiss con tecnologia Digital Inside. Ottica Grasso. Ad Acireale Concept Store in Corsa Italia 122. Ad Aci Catena in Via Matrice 34. Salve amici, vi presento Enrico Terrana e Arte in Legno. Venite con me e ne vedrete delle belle. Tetti, mansarde, gazebi, tettoie, soppalchi e controsoffitti in legno. Ci occupiamo anche del montaggio di finestre per tetti. E da oggi possibilità di strutture pretagliate a controllo taglio numerico. Tanta professionalità e massima fidabilità per opere che durano nel tempo. Arte in legno e il preventivo senza impegno. Presso il parco commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta. Se avete scelto l'Etna come meta, volete godervi la neve? Passando per lingua glossa, fermatevi al Garden Bar. Lo trovate di fronte alla villa, in Via Roma 216. Garden Bar. Dalla scuola pasticcera acese, centinaia di prodotti buonissimi da gustare in ogni momento della giornata. Dalla colazione con le esclusive ravioli di ricotta, alla tavola calda. Dalla rinomata cioccolata calda, agli aperitivi. Pasticceria con produzione giornaliera, angolo riservato alla vendita di articoli perfumatori. Se passate per lingua grossa, vi aspettiamo al Garden Bar in Via Roma 216. Fermatevi. Fermata Spuligni. Se non vi siete mai fermati in questo straordinario posto, fatelo. Costruito attorno a un vecchio palmento ristrutturato, Fermata Spuligni è un agriturismo dove si può mangiare al ristorante o in pizzeria, ma anche fermarsi a dormire in confortevoli camere e godersi l'aria aperta. È il posto ideale per chi vuole fare turismo rurale. Provate i nostri menù. Potrete scegliere il fisso o alla carta, con specialità ai funghi porcini e prodotti alla braccia. In pizzeria tutte le pizze sono ad alta digeribilità e, tra le specialità, la pizza gourmet, fermata Spuligni. Ampie sale per feste e meeting. Grande parcheggio. A Zafferana Etnea, in Via Giacomo Matteotti 1, angolo via Bongiardo. Prenota allo 095 708 3625. Facciamolo per noi. Donare il sangue è un bisogno di cui possiamo avere bisogno. Il gruppo donatori sangue a Cireale Fratres vi invita alla donazione. Sabato 4 marzo, presso la sede di Via Paolo Vasta 180 a Cireale, dalle 8 alle 12. Se hai un peso superiore a 50 kg, più di 18 anni e meno di 60, diventa anche tu donatore. Salva una vita. Basta essere a digiuno da almeno 8 ore e avere con te la tessera sanitaria o codice fiscale. Per info 095 763 2730. Grazie Fratres. Donare è una scelta di cuore. Ben ritrovati alla seconda parte di TG Reporter. Continuiamo a parlare di carnevale. Come dicevamo in apertura si parla di carri allegorici. Questa sera infatti c'è attesa per quello che riguarda la classifica che sarà stilata dalla giuria tecnica. Bellissime e diverse anche le tematiche che sono state trattate dagli associazioni culturali che hanno realizzato queste opere d'arte. Allora andiamo a conoscere più da vicino i 5 carri di prima categoria. Sarà arduo il compito della giuria che stasera dovrà giudicare i carri allegorico gotteschi in concorso. Sono stati loro con i colori sgargianti e le spettacolari esibizioni a lasciare estasiati tanti visitatori che in questi giorni si sono accalcati per vedere le maestose opere di Cartapesta. Andiamoli a conoscere uno ad uno da vicino. 5 i carri di prima categoria in concorso. Cominciamo da La speranza e l'ultima a morire realizzato dall'Associazione Culturale Ardizione. Quest'opera ci ricorda che viviamo in un tempo che appare sempre più come un grande vaso di Pandora, esploso in tutte le sue contraddizioni, dalla minaccia terroristica all'instabilità economica alle varie tensioni sociali, rappresentati da un gigantesco diavolo in primo piano. Ma proprio in questo periodo di crisi l'Associazione Ardizione vuole lanciare un messaggio di ottimismo. Ma proprio in questo periodo di crisi l'Associazione Ardizione vuole lanciare un messaggio di ottimismo e non di rassegnazione, con uno Zeus che ha lasciato all'interno del vaso un uccello che simboleggia la speranza, che ciascuno di noi deve sempre lasciare viva nel proprio cuore. Dei problemi che attualmente attanagliano la società ci parla anche l'Associazione Messina, con il carro Furores, che pone in primo piano tre leoni, che rappresentano il terrorismo, la crisi economica e l'immigrazione clandestina. Su di loro si erge un generale romano, come a voler rievocare lo splendore dell'antica Roma, ma sotto quel glorioso elmo vi è un teschio, che lascia spazio poi al volto del presidente Mattarella. Non ci si può in sostanza grappare al passato, ma bisogna vivere il presente cercando di distinguere il vero dal falso, come testimonia la bocca della verità posta nella parte posteriore. Un altro riferimento politico e sociale ci viene invece offerto dall'Associazione Scalia, con la loro imperfetta meraviglia, che ci parla della recente approvazione della legge sulle unioni civili. Una legge che ha fatto molto discutere i nostri politici rappresentati su una giostra. Sono però il sole e la luna il clou di questo carro, due entità che nonostante siano distanti anni luce, durante l'eclissi si sovrappongono, proprio come due persone dello stesso sesso che si amano trasgredendo le regole della natura, ma dando vita ad un amore destinato a diventare poi un'imperfetta meraviglia. Un carro aperto dunque ad ogni forma d'amore, testimoniato anche dall'uomo e la donna che simoleggiano l'amore naturale, quello in grado di procreare. Ambientalista è invece la tematica trattata dall'Associazione Principato, con il carro OGM, il frutto del denaro, una vera e propria denuncia contro le multinazionali, che per amore del profitto economico mettono sulle nostre tavole prodotti dannosi alla nostra salute. Il personaggio principale è un contadino, con il suo trattore, che sta arando un terreno radioattivo, spalleggiato da un chimico, visibilmente folle, che con una siringa in mano rappresenta la sete di denaro. Un inno alla Sicilia viene fuori invece da A Terra Mia dell'Associazione Cavallaro, una Sicilia rappresentata dal grande ciclope Polifemo nella parte anteriore del carro e da Poseidone nella parte posteriore. Il dio del mare, visto forte e muscoloso, diventa il simbolo dei siciliani, che non si arrendono davanti alle difficoltà. C'è spazio però anche per ACI e Galatea e per il governatore Crocetta. Chiudiamo questa lunga pagina dedicata al Carnevale con il bilancio della manifestazione che viene tracciato dall'amministrazione accese, in particolar modo dall'onorevole Nicola D'Agostino, che ha postato nella sua pagina Facebook il suo pensiero. Sentiamo. L'edizione 2017, scrive il deputato regionale accese Nicola D'Agostino, è quella della raggiunta maturità. Dopo tre anni di scelte, anche impopolari, pur con qualche normale errore, la nuova formula si rivela vincente per la qualità e la personalità dell'intero Carnevale e convincente, mai tanta gente, anche con il tempo inclemente di domenica. La qualità dei cantieri di serie A è superlativa, aggiunge D'Agostino, è senza precedenti storici. I complimenti vanno a tutti, infatti la scelta della commissione giudicatrice sarà certamente oggetto di discussioni. Mi auguro che il vincitore riconosca il valore degli altri cantieri, perché il nostro obiettivo è farli crescere tutti nella professionalità. La cittadella è già un'altra cosa dopo la ristrutturazione, ora rimane da migliorare in termini di continuità e managerialità, anche con uno sforzo in più da parte del Comune, investendo ancora nella cittadella e migliorando i premi. E qui D'Agostino traccia la via da seguire. Adesso che siamo probabilmente il miglior Carnevale d'Italia, scrive, uno dei migliori dieci d'Europa, la più importante manifestazione turistica della Sicilia, dobbiamo avere il coraggio di osare di più. Serve una politica imprenditoriale, aggiunge, che colleghi i carnevali siciliani ai cantieri accesi, che potranno ottenerne benefici economici attraverso una produzione maggiore di carri, lavorando tutto l'anno. Compito della politica, facilitare l'incontro con altre amministrazioni comunali, tante hanno già bussato alle nostre porte. Nuovo lavoro in vista, dunque, per l'assessore Coniglio. E dopo aver ringraziato tutti, dalla fondazione alla direzione artistica, dal sindaco al consiglio comunale, D'Agostino esprime un commento sul lunedì dei fiori di ieri. Le vecchie macchine infiorate riproposte ieri, dice, mi sono sembrate un'idea bellissima e romantica. Adesso abbiamo la seconda festa dei fiori, il carnevale estivo, l'opera di Manara. Novità e cambiamenti importanti che lasceranno il segno. Inoltre, aggiunge e conclude, serve un museo. I migliori pezzi vanno già da quest'anno conservati e insieme all'opera di Manara, nel giro di poco, realizziamo una cosa importante. E cambiamo decisamente argomento. Parliamo dello spettacolo offerto dall'Etna, che con una nuova fase eruttiva, caratterizzata da fontane di lava, esplosioni e le emissioni di una piccola colata, è tornata a farsi sentire. I fenomeni sono al momento concentrati nella zona sommitale del vulcano attivo più alto d'Europa e non costituiscono un pericolo né per le cose né per le persone, ma lo spettacolo è visibile da Catania e Taormina. L'ampiezza del tremore interno ai condotti magmatici, secondo i rilievi degli INGV, è in continuo aumento, segnale che il sistema sta rilasciando un notevole grado di energia. L'aeroporto internazionale di Catania non è interessato dall'attività in corso ed è pienamente operativo. È stato emesso infatti un avviso aereo arancione che lascia aperti gli spazi aerei. E domani, mercoledì 1 marzo alle 12.30, presso il Palazzo di Città, sarà presentato il calendario delle giornate della cultura. Interverranno per l'occasione il sindaco Roberto Barbagallo, l'assessore alle attività culturali Antonio Coniglio e il vescovo della diocesidia Cileale Antonino Raspanti. E con questo ci fermiamo ancora una volta e riprendiamo tra poco con la terza parte di TG Reporter. Il centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di Via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale, vicino la Biblioteca Zelantea. Centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi SAEM, Via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale, per info 095 60 48 83. Smoker Store. Sai che le sigarette elettroniche di seconda generazione sono molto più efficaci e prestanti? Sai che il 70% di chi fuma elettronico ha smesso con le sigarette classiche? Sai che secondo il dottor Veronesi è il modo migliore per smettere di fumare? Smoker Store. Oltre 200 tipi di liquidi a prezzi sbalorditivi. I migliori ad Aci Reale in corso Umberto 183. Ricorda, il fumo uccide, il vapore no. Dal 1989 a Lingua Glossa, sfizi di Sicilia, di Carmelo Cannavò. Vi aspettiamo nei nuovi locali in Via Umberto numero 34 36. Se non ci conosci e vuoi assaggiare delle cose sfiziose davvero, fai un salto a Lingua Glossa. Da noi la salsiccia viene lavorata al ceppo e in sette diverse specialità. Vi offriamo i migliori tagli di carne rigorosamente locale, da bovini certificati da Scelta Iblea e suino, bianco o nero dell'azienda Mulinello. Sfizi di Sicilia. Carni preparati e una fornitissima salumeria di prodotti di qualità. Se vi è venuto uno sfizio, vi aspettiamo a Lingua Glossa in Via Umberto 34 36 095 64 38 27. Vi aspettiamo! Se stai cercando una location suggestiva per il tuo matrimonio, per festeggiare momenti importanti, compleanni, lauree, anniversari o per eventi, meeting, conferenze, Palazzo Romeo. Palazzo Romeo, vicino al gusto di chi ama il bello, accanto a chi vuole per i suoi ospiti solo il meglio. Palazzo Romeo, una storica dimora nel cuore di Aci Reale, moderna nelle finiture e nel concepimento di banketing, con una elegante sala interna e con allestimenti esterni tra il verde, i fiori e le fontane. Cornice ideale di un giorno unico. Palazzo Romeo, fissate un appuntamento per visitare la struttura al 339 73 810 36. A Daci Reale, in Piazza Madonna del Suffragio 15, Palazzo Romeo, la festa. Ben ritrovati e proseguiamo con le notizie spostandoci ad Acicatena, dove parliamo di raccolta differenziata. Gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Acicatena, infatti, denunciano la totale mancanza di informazione agli utenti. Sentiamo il servizio. Scatta ad Acicatena la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta. Da domani 1 marzo, infatti, tutto il perimetro urbano, compreso tra le zone di Cubisia, Pozzo, Loco, Indirizzo, Sanità, osserverà il nuovo sistema di conferimento. Non mancano però le perplessità. Gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Acicatena, a tal proposito, denunciano la totale mancanza di informazione e formazione agli utenti. A quanto pare, i kit non sarebbero stati distribuiti e le segnalazioni accolte dal Movimento 5 Stelle da parte dei cittadini fanno registrare un dato di disinformazione allarmante. Dopo un primo incontro con il capo settore ecologia, Francesco Agostino, i pentastellati richiederanno un secondo incontro con il commissario straordinario Vincenzo Dagata per maggiori chiarimenti in merito. È assolutamente impensabile poter immaginare che oggi i cittadini possano iniziare una qualsiasi raccolta differenziata senza avere né gli strumenti, ma soprattutto senza nemmeno avere conoscenza di quando dovrà iniziare questa raccolta differenziata. Perché un aspetto fondamentale che bisogna chiarire è che ad oggi, 28 febbraio, la stragrande maggioranza dei cittadini di Acicatena, centro, il posto dove ancora manca la raccolta differenziata, non ha conoscenza che domani partirà la raccolta differenziata perché non è stato consegnato nessun avviso di questo inizio della raccolta differenziata. I rifiuti, lo ricordiamo, dovranno essere conferiti secondo il calendario prestabilito attraverso un'ordinanza. Lunedì umido, martedì plastica indifferenziabile, mercoledì umido, giovedì carta e cartone, venerdì indifferenziabile, sabato umido, sempre dalle venti del giorno precedente alle ore 7 del giorno di raccolta. E rimanendo ad Acicatena, il settore servizi sociali informa alla cittadinanza che da domani, mercoledì 1 marzo, saranno distribuite agli aventi diritto le tessere AST per il trasporto degli anziani all'ufficio servizi sociali di Via Palestra numero 13 al primo piano. Gli interessati potranno ritirare tutti i giorni durante l'orario di ricevimento al pubblico, il martedì e il giovedì, anche nel pomeriggio. E andiamo invece a Giarre parlando di sanità. Gli infermieri, infatti, in procinto di essere trasferiti da Giarre ad Acireale, restano al loro posto. Non vi sarà alcun trasferimento del personale infermieristico dall'ospedale di Giarre a quello di Acireale. A comunicarlo è stato ieri il sindaco di Giarre, Angelo Danna, che ha ricevuto una nota a firma del direttore sanitario del distretto ospedaliero, dottor Giovanni Scala, con la quale si comunicava la sospensione dell'esecutiva delle disposizioni di servizio impartite nei giorni scorsi per il trasferimento di numero 5 unità di personale infermieristico. La direzione sanitaria dell'ASP Catania, dunque, fa marcia indietro dopo l'intervento del sindaco, che vedeva in questo trasferimento l'ennesimo scippo perpetrato nei confronti della sanità già rese. Non si tolgono risorse, dunque, all'ospedale di Giarre, ma, di converso, vengono a mancare gli annunciati rinforzi all'ospedale di Acireale, che da sempre lamenta l'insufficienza del personale infermieristico. Un problema nel problema che fa i conti con le pressioni politiche ora provenienti da Giarre, ora da Acireale. Il sindaco d'Anna, dal canto suo, ha sostenuto che si sta lavorando per creare sinergie tra i servizi del territorio e servizi ospedalieri e che già da tempo un tavolo tecnico interistituzionale e intercomunale porta avanti la proposta di rendere il PTE e il punto di primo intervento porte di accesso ai servizi ospedalieri. Venerdì 3 marzo alle 17.30 si svolgerà la cerimonia di intitolazione di Piazza Peppino Impastato. Il tutto si svolgerà ad Acireale presso l'area ex Piazza Cappuccini. Per l'occasione sarà presente il sindaco Roberto Barbagallo e anche l'onorevole Claudio Fava, vicepresidente della Commissione Nazionale Antimafia. E adesso andiamo a vedere le previsioni meteo previste per la giornata di domani. Cielo sereno poco nuvoloso, temperature stabili, minima 12 gradi, massima 17, venti moderati, mari poco mossi. Si chiude così l'informazione di TG Reporter, potete anche seguirci sulla nostra pagina Facebook etnespresso channel trattino TG Reporter. Grazie per averci seguito, l'informazione ritorna domani alle 13.40. Grazie per aver guardato il video.